Rebecca in ormeccanica non riesce a riconfermare la doppietta del girone d'andata contro un oltretorrente sicuramente in ripresa ma pur sempre ultimo in classifica. I piacentini riescono a strappare un pareggio che quantomeno gli consente di rimanere in zona playoff. Sconfitti in gara 1 per 4-2 e riscatto in gara 2 per 8-6, questo il bilancio dei biancorossi nella trasferta che segnava la prima giornata del girone di ritorno. Al mattino le cose si mettono subito male per Rebecca in ormeccanica, tanto che alla fine del terzo inning i padroni di casa comandano 4-0. Al primo e al terzo Bertolini concentra 5 delle 7 valide incassate nell'incontro e così i parmensi hanno potuto gettare le basi di un'insperata vittoria. La reazione del Piacenza arriva al quinto inning, aperto dal doppio di Cetti e proseguito con gli errori dell'oltre che hanno fruttato il 4-1. Altro doppio all'ottavo, stavolta di Riccio, che propizza il 4-2 ma in dirittura d'arrivo manca lo spunto per completare la rimonta. Al pomeriggio la partita si sviluppa in modo diametralmente opposto perché la squadra di Marenghi è dettare legge nella prima metà. 5-0 al quinto inning, fuoricampo di Murari da un punto al primo. E tutto apparentemente in discesa, se non che al sesto l'oltre torrente accorcia pericolosamente sul 5-3. Rebecca in ormeccanica reagisce con due punti al settimo, base a Murari e Cetti, volata di sacrificio di Cammi e singolo di Capra, che ristabiliscono il punteggio su un più rassicurante 7-3. Ciò nonostante un paio di errori difensivi e alcune chiamate out abbastanza dubbie rimettono in pista l'oltre torrente. L'onda giallo-blu si esaurisce qui perché il Piacenza riesce a gestire il vantaggio con un punto della sicurezza che arriva al nono, con Cammi spinto dalla volata di sacrificio di Carini. Ora la Rebecca in ormeccanica è attesa da un trittico da brividi contro le prime tre in classifica, al termine del quale si potranno avere le idee chiare sulle reali possibilità dei biancorossi di agguantare i play-off.